I funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli, unitamente ai finanzieri della campagna di Capodichino, nel corso di una serie di controlli effettuati su passeggeri in arrivo da Istanbul, hanno sequestrato oltre 400 capi di abbigliamento e accessori vari contraffatti di numerose note case di moda. I passeggeri, giunti presso l'aeroporto con grandi bagaglie e borse da stiva, dove era stata occultata la merce contraffatta, al momento del controllo non sono stati in trato di produrre documentazione valida a prova dell'acquisto e dell'originalità dei prodotti. Il materiale sequestrato, composto principalmente da t-shirt, polo, jeans, giubbini, calzature, borse, marsupi e tracolle, era sprovvisto del packaging tipico dei grandi marchi per permettere ai soggetti di trasportare un maggior numero di pezzi. Consultati i periti delle società titolari dei marchi, questi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti finali. Gli articoli sono stati sequestrati, mentre gli autori dell'illecito, in totale quattro responsabili, sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione. L'operazione conferma l'efficace sinergia tra l'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto ai traffici illeciti.